amici di casa pesci venite con me perché questo è un video spesa speciale prima tutta la location è diversa e poi poi c'è teresa dove siamo questa non è casa nostra questa è malaga dopo facciamo l'home tour abbiamo fatto la spesa staremo qui per chi insedia una piccola spesa perché c'è qualcuno che proprio vabbè tiraci un po' a piedi per favore c'è a piedi Lessi e comunque niente abbiamo fatto la spesa abbiamo speso 40 euro per una piccola parte di spesa perché dovremmo comprare tante di quelle cose ancora che non si sa però 40 euro tanta roba ma che tanta roba che abbiamo comprato qui c'è super intanto c'è il supermercato questo supermercato che si chiama dia è proprio una catena spagnola e infatti abbiamo preso il tutto a marchio di anni dia non so quanto abbiamo pagato lo dico non ricordo tutto lo ricordo tanto se gli piace che lo vanno a comprare che vengono a malaga 1 e 50 ma 2 3 euro 3 euro e qualcosa dopo se lo trovo lo guardiamo insieme poi abbiamo comprato l'olio extravergine di oliva questo lo dovremmo assaggiare poi ci facciamo la recensione di questo perché noi ci quantiamo 50 e non è un litro e 54 euro e 99 messi 5 euro poi abbiamo comprato questo accento di vino marchiato dia 50 centesimi no non mi piace abbiamo un prato i guanti 1 euro e 39 poi abbiamo comprato le fette biscottate il 99 centesimi 270 grammi 95 vabbè poi ho comprato questo che non ricordo quanto costa a 69 centesimi sempre a marchio dia uno yogurt è quello che ho fatto in italia ma qui ragazzi noi siamo venuti con un giacchetto abbiamo dormito io praticamente dormito 2 3 ore dopo dieci giorni di lavoro consecutivi quindi sto eccomi i miei occhi sono proprio fusi questo qui è uno spray alla vaniglia che abbiamo pagato sotto l'euro 89 centesimi poi ho preso questi tipo grissini anche questi sotto l'euro 89 centesimi poi abbiamo preso al volo questo pacco di insalata l'abbiamo pagata 89 centesimi da 200 gradi poi la pasta ma questa sempre via via e questa volta abbiamo pagato 80 centesimi sì 80 centesimi sì 80 centesimi poi abbiamo preso grana padano grana padano questo è il marchio nostro non è chiudi marco chiudi che c'è gente magari 2 euro e 99 non è tanto 3 e 99 2 e 99 mi sa poi abbiamo speso abbiamo preso puoi accendere la luce se vuoi poi i pomodori eccoli con ore eccoli qua questi pomodori ti ricordi quanto costava no no le uova poi la marmellata 1 euro e 45 di albicocche la nutella marmellata 1 euro e quindi tutto questo sono curioso dell'olio l'olio extravergine questo mi vedo l'ora da assaggiare ma noi siamo in una zona dove l'olio è favoloso l'olio di nutella 275 eccolo qua poi abbiamo preso vediamo vediamo questo per marco non abbiamo avuto quello dell'altro io pensavo che erano piselli infatti dico ma che cacchio ha preso invece è il latte di soia quanto l'hai pagato e dai 0 un paio d'euro si vedrà un paio d'euro un po io proprio sono un disastro poi poi vabbè il sale abbiamo preso il sale 35 centesimi che poi non lo usiamo però siccome arrivano jacopo sofia matteo e elena le lattine di coca cola zero e light per la mia digestione 58 centesimi poi abbiamo preso questo 1 euro e 45 che farà schifo ma va bene così la stima barba per marco 89 sì 89 centesimi comunque i prezzi non sono alti eh no rispetto a 9 allora questo non è uno dei più economici marco riprendi lì io io sto parlando questo non è uno dei supermercati più economici però abbiamo letto però comunque ci serviva è vicino casa abbiamo preso i chiuli eccoli qua che non so quanto l'abbiamo pagato sentite i gabbiani la vita quanto l'hai pagata po 50 centesimi no meno 38 centesimi l'hai pagata questa 38 centesimi poi il riso integrale non è che buttiamo tutto ci fa schifo tutto è possibile chi se ne importa il riso integrale mannaggia no questo costa 2 3 euro arroz arroz vuol dire riso voglio sapere dov'è la pasta tricolore 73 centesimi senti il riso integrale 1 e 65 poi vinagre 50 voglio sapere quanto è pagato il latte latte 99 centesimi ma adesso te lo cerco te lo faccio vedere quanto costa te lo faccio vedere soia 1 euro e 48 poi limone varie pezzetti per aprire io ho preso sta sozzeria che penso non la mangeremo mai una sorta di parmigiano e questo mi sa 1 euro e 19 quindi 100 grammi di prodotto 125 grammi di prodotto quindi sai che ci sarà dentro e poi abbiamo preso un bocciolo da perché io adesso devo telefonare per sentire l'acqua potabile ma credo di sì dai io credo di no ma come no ah poi abbiamo preso anche questo rotolone e basta basta sì sì abbiamo preso tutto questo adesso usciamo perché ci mancano un po di detersivi quello per lavare i pavimenti quello lo spray disinfettante perché qui vengono una volta a settimana a pulire marco vorrebbe che venissero tutti i giorni ma io e me non costano la pulire quindi eh no no però sei a vacanza e va bene se non abbiamo un prodotto nulla no? vacanziones di vacaciones ok per il tour home tour prossimo video home tour quindi a ciao 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 non vi posso intrattenere vabbè fammi fare una sorta di intrattenimento qua questo questo sono io io sono distrutta non devo riposare eh beh dai è stato pure il viaggio è stato stamattina alle 2 sì ok ciao a tutti bye bye ciao ciao